Si è aperta ufficialmente con la seduta operatoria di urologia l'era robotica dell'ospedale annunziata di Cosenza. Sul tavolo chirurgico, nel nuovo blocco operatorio Petrassi, l'equip del dottor Michele Diddio ha eseguito i primi interventi di prostectomia radicale per tumore con l'ausilio della robotica Da Vinci. La chirurgia robotica, un'evoluzione naturale della tecnica laparoscopica, replica i gesti eseguiti dal chirurgo alla console ma permette di operare con maggiore precisione grazie alla soppressione del tremore naturale delle mani e alla possibilità di demoltiplicare i movimenti. Il Da Vinci è formato da una console chirurgica posizionata esternamente al campo sterile. Attraverso la console il chirurgo opera per mezzo di due manipolatori simili a un joystick e di pedali che guidano la strumentazione e osserva il campo operatorio tramite il monitor dell'endoscopio 3D. In sala tre monitor consentono ad ogni angolazione di proiettare la visione ingrandita del campo operatorio. Il robot Da Vinci apre dunque una nuova stagione per l'annunziata di Cosenza.